Per fare una città ci vogliono i servizi e l'accorpamento va da sé un passo decisivo per la nascita della nuova Pescara al punto che ancora oggi ci si interroga a distanza di quasi dieci anni dal referendum del 2014 sul processo di fusione su quanto sarebbe stato utile portare avanti un progetto pilota e studiarne la fattibilità. È giornata di voto nei tre consigli comunali di Pescara Montesilvano e Spoltore. La nuova Pescara sarà istituita dal primo gennaio 2027. È stata approvata a maggioranza la gestione di cinque servizi tra cui la protezione civile e l'accesso ai finanziamenti europei. A Montesilvano il capogruppo del PD ha voluto rimarcare che nonostante si stia procedendo con l'iter la nuova Pescara non nasce certo sotto una buona stella, almeno a giudicare da ciò che è accaduto in sede di approvazione dello statuto. Io credo che sulla questione del nome e sulla questione delle giunte una città che nasce debba rendersi conto che non si può bocciare uno statuto per elementi così superficiali. Non è sceso giù il voto contrario di Pescara sulla nuova Pescara, ha detto in altre parole. Non è possibile pensare a questo anche perché il quesito referendario chiamava le votazioni, i cittadini a votare, nel quesito referendario era riportato la nome nuova Pescara. Pescara è capofila di molti servizi, questo però non vuol dire precludere, ha rimarcato il primo cittadino, Ottavio De Martinis, la condivisione nella gestione organizzativa. In un passaggio abbiamo dato previsto che ci possa essere un nostro dirigente a prendersi cura di una di queste cinque funzioni, ma non abbiamo, come dicevo, battuto i pugni sul tavolo come invece ha fatto Pescara in occasione del statuto. E ora si guarda al 31 dicembre la scadenza più importante di tutte, perché i tre comuni saranno chiamati a ratificare quanto approvato e se ciò non accadesse... Il comune di Pescara sarà, tra virgolette, sovrano col suo statuto su tutte e tre comuni, soprattutto su Sportore e Montesilvano. E se dovesse entrare in vigore lo statuto di Pescara sarebbe ovviamente senza municipi. Sarebbe un disastro, io dico che è già un disastro di sé la fusione, lo dico perché sono uno di quelli del no sicuramente alla fusione da sempre. E senza municipi sarebbe veramente l'identità persa soprattutto di Montesilvano e Sportore, cosa che noi vogliamo e speriamo che il buon senso, ripeto di tutti, porti a uno statuto condiviso che preveda municipi e quant'altro. Grazie a tutti.